Io ho molti anni che faccio triathlon, da qualche anno faccio gli Ironman, mi alleno più o meno 3 e anche 4 volte al giorno. La tecnica è fondamentale in tutti gli sport e anche negli sport di resistenza, perché comunque avere un'azione economica è sicuramente vantaggioso e ti permette di risparmiare tante energie. È interessante cercare di capire come fare per avere un gesto ottimale e ci si allena sia dal punto di vista della forza e della ripetitività di un gesto svolto correttamente, però per questo è fondamentale l'utilizzo anche di aiuti esterni che ti possano dare dei feedback su come lavorare il meglio. Sicuramente in questo centro c'è la possibilità di fare un'analisi del gesto tecnico, quello della forza, ma penso anche per altri tipi di movimento molto approfondita. Spesso si usano video analisi abbastanza diciamo home made. Certamente poterlo fare utilizzando dei macchinari e delle apparecchiature così particolari e così sofisticate dà un aiuto molto importante anche per capire dove migliorarsi. Questo progetto l'anno scorso era partito con Franco e Alex, quindi mi hanno chiesto appunto di entrare a far parte di questo team. Abbiamo pensato di mettere a disposizione un po' la nostra esperienza per dare un'idea di programmi, di allenamenti da poter fare durante questo inverno. Grazie a voi perché comunque abbiamo dato la possibilità anche a diversi atleti che fanno parte di questo progetto, che comunque sono più di mille che si sono iscritti, di fare dei test di qualità per poter fare un allenamento che sia anche di qualità e strutturato e con i dati oggettivi su cui basarsi. Quindi sicuramente siamo partiti con il piede giusto e i test sono sicuramente fondamentali anche per l'allenamento.